Un cordiale saluto da Daniele Berlusconi. Giovedì tempo nel complesso buono sulla nostra penisola, con prevalenza di sole. Tuttavia avremo qualche disturbo sulle regioni sudorientali, con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio. E poi a partire da pomeriggio si manifesterà dell'instabilità sull'arco alpino a partire da ovest, con temporali in estensione anche alle zone di pianura verso la sera. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, risultando comprese nelle medie del periodo, valori intorno agli 1-3 gradi sull'arco alpino verso i 2000 metri. Le massime saranno in ulteriore aumento, specialmente al centro nord, con punte che toccheranno i 26-27 gradi sulle zone interne. Il dettaglio previsionale per le regioni del nord ci mostra una giornata nel complesso soleggiata, con solo qualche velatura o stratificazione di passaggio, qualche addensamento un po' più consistente sulla riviera Ligure, poi nel corso del pomeriggio addensamenti sempre più importanti sulle Alpi a partire da ovest, con primi temporali ed acquazioni che si estenderanno verso le pianure di Piemonte e Lombardia durante la serata. Alla centro giornata buona con poche nubi in transito, nel corso della serata aumenterà un po' la nervosità sull'alta Toscana con primi piovaschi durante la notte. Al sud infine tempo un po' variabile tra Puglia, Lucania e Calabria, con anche qualche acquazzone nel corso della mattina e del primo pomeriggio, altrove tempo nel complesso più soleggiato, soleggiato anche in Sardegna per gran parte della giornata. E per oggi è tutto, ci vediamo i prossimi aggiornamenti! Grazie! 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 Grazie!